Salve, benvenuti nella mia cucina. Allora oggi vi voglio dare una ricetta un po' più strutturata, diciamo di un livello un po' superiore. In queste ultime settimane abbiamo fatto tante ricettine molto carine, molto semplici e ogni tanto devo anche accontentare insomma chi vuole spingersi un po' più in su. Ho voluto fare questa nuova ricetta di bonci, ancora inedita, che non ha in realtà niente di particolare rispetto a tante altre cose che abbiamo già fatto insieme. La cosa interessante di questa ricetta, molto interessante di questa ricetta è proprio il discorso della idratazione alta, altissima idratazione che si ottiene con facilità estrema per cui andiamola a vedere, non vi voglio trattenere di più. Come promesso sto anche preparando il video e credo che andrà domani, sicuramente riuscirò entro domani sera a pubblicarlo. Di tutte le richieste nel sondaggio abbiamo fatto la ricetta della focaccia genovese l'altro ieri e sto preparando il pane semplice per tutti i giorni come da voi richiesto. Quindi penso anche, diciamo che alterniamo un po' dai, alterniamo un po' ecco una ricetta importante come questa, diciamo di un livello leggermente superiore e poi faremo anche sempre tante altre ricettine alla portata di tutti, soprattutto con gli impasti a mano. Ho anche una grande sorpresa per voi, non vi anticipo nulla per quanto riguarda una pubblicazione di un libro, ma ne parleremo un po' in seguito. Continuate a seguirmi, mettete like, commentate sotto questo video per qualsiasi problema abbiate, per qualsiasi consiglio. Sapete sono molto presente su YouTube, quindi rispondo sempre e comunque a tutti. andiamo a fare la ricetta nuova e inedita di Bonci, ok? Andiamo. Allora, un chilo di farina V280-V300, una farina forte, insomma, abbastanza forte per pizza. Andiamo a mettere nell'impastatrice tutta la farina e andiamo a mettere 700 grammi di acqua, quindi andiamo ad idratare per il momento al 70%. Ho cercato di tagliare, ho fatto questo video da un video di un mio corso, in realtà l'ho tagliato e l'ho sistemato in maniera più stringata possibile, ma sono circa 24-25 minuti, ho proprio lasciato l'indispensabile. Allora, che cosa stiamo facendo qui? In realtà stiamo facendo un idrolisi con 70% di idratazione su un chilo di farina. Non dobbiamo chiaramente far incordare, ma dobbiamo soltanto far amalgamare bene e tutta l'acqua alla farina. Incorderà perfettamente un po', perché insomma è un'idratazione non eccessivamente alta e anche perché non c'è l'azione dei lieviti, per cui, in teoria, voglio dire, in genere, acqua e farina insieme da sole si avalgamano in maniera abbastanza veloce. Allora, chiaramente, in macchina, vedete, cioè cercate di portare, se dovesse accadere questo, cercate di portare tutta la farina al centro. Insomma, l'impasto deve essere come se fosse un impasto chiuso, normale, ok? Deve essere tutto bagnato e tutto omogeneo. Andiamo avanti, fino a che, insomma, ecco appunto, otteniamo tutto l'assorbimento. Ecco, una volta assorbito tutto, prendiamo una cassettina, una ciotola, un qualsiasi contenitore per alimenti, e ci portiamo il nostro impasto sulla ciotola. Allora, vi ricordo, solo acqua e farina. Lo portiamo nella ciotola. Piacchiamo di, ecco, diciamo, schiacciarlo un pochino in modo, perché vi spiego, ora questo impasto qui andrà in frigorifero per tre ore, così, scoperto, in modo che il freddo gli arrivi proprio prima. Ecco, lo dobbiamo far freddare. Vi anticipo già che dopo le tre ore dovremmo tirare fuori un impasto, mettendolo a quattro gradi in frigorifero, dovremmo tirare fuori un impasto di circa nove gradi. Allora, trascorse le tre ore ci dobbiamo preparare altri 100 grammi di acqua che andremo a mettere nell'impasto, quindi arriviamo all'80%, ci abbiamo 25 grammi di sale, abbiamo 30 grammi di olio evo e 2 grammi di lievito secco, di lievito in bustine, insomma, quello secco. Se usate il fresco, triplicate, quindi diventano circa sei, anche otto, via, ora che è inverno, però, insomma, diciamo, la proporzione è quella giusta. Abbiamo tirato fuori l'impasto, vedete, ha fatto anche una leggera, neanche pellicina, si è appena asciugato sopra, ma non succede assolutamente nulla. Ce lo portiamo nell'impastatrice di nuovo, ecco, qui sto controllando la temperatura, sono 9 gradi, quindi calcolate che con un impasto così, a 9 gradi, altri 100 grammi d'acqua si li beve in un attimo. Quindi adesso andiamo subito a mettere insieme, non vi scandalizzate, perché io lo faccio spesso questo, non mi interessa, metto lievito e sale insieme, faccio sciogliere un pochino e poi comincio ad entrare con l'acqua a più riprese, a più riprese per sicurezza. Se mettete il lievito fresco, lo sbriciolate, infatti ho fatto anche il gesto. Ripeto, questo è un video estrapolato da una lezione, da un mio corso, quindi abbiate pazienza. Ho cercato di fare del mio meglio per poterlo sistemare e pubblicarlo. Allora, io vado piano piano, e ci dovete andare anche voi, è vero che l'impasto è molto freddo, è vero che di base c'è una farina è di una certa forza. È anche vero che siamo andati a mettere il sale, per cui abbiamo ulteriormente irrigidito il glutine, per cui è molto ben difficile smontarlo. Però, per sicurezza, voi mettete l'acqua in 3-4 volte, anche se sono solo 100 grammi. Non mettete mai, chiaramente, come sempre, la parte successiva di acqua se l'impasto non è perfettamente incordato, in tiro e asciutto. Ecco, io qui ho un po', diciamo, ristretto i tempi, però calcolate che questo in tutto, in questa seconda fase, è un impasto che in tutto, che vi dico, impiega ad incordare, a chiudere in 10 minuti, ma forse esagero, anche meno. E non solo, qui poi vedremo alla fine, quando andremo a mettere l'ultima parte di acqua, che volendo, ne avrebbe bevuta anche qualche grammo in più. Però ci fermiamo all'80, anche perché se non avete un forno poi professionale, ecco, ce l'abbiamo messa tutta, e se non avete poi un forno professionale, un forno che ha ad alte temperature, insomma, poi è anche un po' difficile andare a asciugare tutta questa acqua nell'impasto, in cottura. Anche perché io qui, è una ricetta, veramente della romana, in teglia classica, si stende, ecco, guardate, perfetto, molto morbido, ovviamente, comunque sempre un impasto all'80%, sia chiaro, anche la manipolazione successiva, bisognerà avere delle attenzioni, eccetera, però comunque è perfettamente incordato. Stavo dicendo, io stendo e cuocio come Pizza Romana comanda, a differenza, per esempio, delle 2.0, 3.0, 4.0 che sto facendo per gli abbonati, anzi, se volete, mi fa piacere se partecipate, sto facendo le pizze di Marco Lungo che invece prevedono un ulteriore, ecco, entriamo con l'olio, facciamo incorporare l'olio, quando è tutto incorporato, di nuovo asciutto ed incordato, lo tiriamo via. Stavo dicendo, le ricette invece di Marco Lungo prevedono comunque un'altra ora di lievitazione in teglia, cosa che sinceramente, insomma, per me è una novità, io quella procedura la facevo soltanto per le fugacce, ma è anche vero che comunque gli impasti di Marco Lungo sono delle cose un po', diciamo, delle cose un po' particolari, i procedimenti di Marco hanno una filosofia diversa da quella che conosciamo, io sono sempre stata del parere che bisognerebbe prendere il meglio da tutti, e poi farlo proprio, insomma, anche addirittura procedimenti imparati, visti, o magari mie intuizioni, magari per una pizza e poi applicati al pane. Allora, mi raccomando, sempre ripeto, per favore, abbiamo chiuso l'impasto, non lo vedete, perché comunque, torno a ripetere, è un video estrapolato da una lezione molto più lunga, qui vedete che io non copro la cassetta, ma la cassetta va assolutamente coperta e sigillata. Allora, una volta chiuso, gli diamo qualche piega, così, e lo facciamo stare due ore, due ore di orologio, né un minuto in più, né un minuto in meno, due ore a temperatura ambiente, chiuso, e poi, l'impasto va passato in frigorifero per 20-24 ore, a 4 gradi, ok? Qui chiudiamo, mi raccomando, chiudete, vi sto spiegando, non so che cosa, probabilmente, sì, ecco, le due ore, chiudi ermetico, tieni due ore in ambiente, ho preso la temperatura dell'impasto chiuso, eravamo intorno ai 20 gradi, nonostante l'80% di idratazione, quindi, un paio d'ore, gli ci vogliono, perché andiamo a mettere, andiamo a chiudere un impasto sempre molto freddo, quindi bisogna farlo, bisogna farlo partire, passate le 20-24 ore, si versa sul tavolo, come al solito, chi non le avesse viste, andate a vedervi anche le mie altre ricette, dove mi soffermo molto, sulla formatura, sulla stesura, sul discorso del capocoda, che qui sinceramente non ho toccato, vi metterò poi, qui sulla video, magari, la playlist di tutte le pizze in teglia che ho fatto, magari andatevi a vedere solo le formature, o solo le stesure, allora, qui sotto, in descrizione, vi ho messo come si calcola il peso di una pagnotta, è base per altezza diviso 2, quindi significa che se avete una, per esempio, teglia 40x30, sono 3x4,12, quindi 1,2 kg diviso 2, 600 grammi, e quindi andate a fare un panetto da 600 grammi, questa è la misura standard, se vi piace un pochino più alta, aumentate del 10%, quindi ce ne mettete 6,60, se invece vi piace un pochino più bassina, diminuite il 10%, quindi andate a fare, per esempio, 5,40 di impasto, 5,50, ecco, allora, io qui ho fatto una manovra pazzesca, però, ora vi faccio vedere che, sembra difficile, ma, in realtà, è la cosa più facile, vi faccio vedere, quella che poi faccio di solito, eh, la formatura di pino arletto, sempre mantenendo il capo coda, per quanto riguarda il capo coda, stavo pensando proprio di metterlo anche nei segni, ecco, questa è la, è la, la chiusura arletto, l'impasto è molto morbido, per cui, eh, siate, delicati, ma decisi, nei movimenti, ricordatevi sempre che siete voi a comandare, non è l'impasto, quindi, lo dovete, eh, trattare con cura, ma con, un polso, ecco, come si dice, ecco, va benissimo così, lo chiudete bene, lo stringete bene, e, i panetti, devono andare a, lievitare, per circa tre ore, grosso modo, due, tre ore, poi, dipende dalla temperatura, il panetto è pronto, quando è docile, e, rilassato, e quindi, si fa stendere, con molta facilità, come vedrete ora, circa tre ore, in estate, potrebbero bastarne due, dipende anche dalle temperature, eh, allora, si porta il panetto, sul tavolo, con molta semola, e si comincia a stendere, dalla parte sotto, quindi, dalla parte della chiusura, mi raccomando, non pinzate, ma, usate soltanto, l'ultima parte del dito, e non le, è la punta del dito, quindi, non pinzare, cercate, ecco, non fate mai, questi movimenti, che vi faccio vedere qui, dove, deve essere morbido, lo dovete appena toccare, e lui si apre da solo, questa è la parte sotto del panetto, e quindi, lo sono andata a prendere, con il tarocco, e l'ho ribaltato, però, io adesso, questo è il capo, questa è la parte sopra, quindi, è la parte della chiusura in alto, io, io in questo caso, vado anche, a stendere un pochino, e a distribuire bene, la, lievitazione dentro, i gas che si sono creati, anche dalla parte sopra, ora, spolvero, e vado a mettere, al contrario, di tutte le volte, che abbiamo visto le mie pizze, vado a mettere, la parte sotto, in alto, vedete, si, basta toccarla, la si porta ai bordi, mi raccomando, i bordi sempre, al contrario di quello, che dobbiamo fare, quando stendiamo al centro, i bordi, cercate di, ecco, di sigillare bene, dove ce n'è molta, la portate, e dove ce n'è poca, dove ce n'è poca, la portate, e dove ce n'è poca, la togliete, oh, non mi viene, vabbè, insomma, avete capito, allora, ci assicuriamo, che sia tutto ben, omogeneo, allora, adesso io vi faccio vedere, un condimento, che ho fatto, in questa lezione, che è, un broccolo, appena prolessato, e poi ripassato, e schiacciato, appena, ripassato, in padella, aglio, aglio, e peperoncino, è un esempio, io lo uso, per esempio, questo, perché a me piacciono molto, le basi bianche, vi dico la verità, la pizza col pomodoro, mi piace pochissimo, non perché non mi piaccia, il pomodoro, però mi piace solo, in certi casi, tipo, la, la fina, fina, la bassa, bassa, scrocchiarella, che abbiamo fatto, dei forni, andatevi a vedere, anche quella, quindi, io questo lo uso, per, inumidire, l'impasto, diciamo, al posto del pomodoro, qui ho fatto, appunto, questa, questa sorta di, non è una crema, perché erano molto, cioè, il broccolo si sentiva, erano ben cotti, ma non erano, fatti a crema, e andiamo a fare, una, broccoli e salsiccia, mi sono, mi sono, ho lasciato, tutta questa cosa, proprio per farvi vedere, le pizze, vanno condite, sempre, fino comunque, ai bordi e gli angoli, vanno condite, tutte bene, soprattutto, la teglia romana, non vanno lasciate, i cornicioni, si arriva, sempre, sui bordi, è più bella, è più bella, e poi, soprattutto, mangiate più pizza, e meno, e meno cornicione, meno, pane, meno, cioè, voglio dire, una teglia così, è anche molto più, ci ricavate molto di più, no, se andate fino ai bordi, e poi mettiamo, mettiamo la salsiccia, sbriciolata, mi raccomando, caos organizzato, non mettete salsiccia, o comunque, qualcosiasi altro ingrediente, in maniera, troppo, come dire, geometrica, perché sono veramente molto brutte, io vedo delle pizze, dove mettono, tutte le cose in fila, sono veramente bruttine, quindi, cercate di organizzare, un caos, appunto, organizzato, con gli ingredienti, la pizza viene molto più bella, allora, un breve cenno, alle cotture, che purtroppo, qui non posso farvi vedere, per chi ha, l'F134, chiaramente, deve mettere, non il biscotto, ma la, la riflettaria, quella fina, in dotazione, io ho cotto, a 320, in platea, e 280 al cielo, perché non ho pomodoro, quindi, non ho cose estremamente umide, per cui, sopra, mi sono tenuta, un pochino bassina, altrimenti, mi si brucia tutto, e, se invece, fate quelle col pomodoro, sopra, potete arrivare, tranquillamente, anche a 300, allora, io qui vado a mettere, un po' di mozzarella, questa è una mozzarella, professionale, che io compro, tagliuzzata, già, ma è fior di latte, è proprio, una mozzarella molto buona, non vi dico la marca, ma è una marca, è un'azienda, blasonatissima, che è molto asciutta, per cui, insomma, nel caso delle pizze, aiuta sempre tanto, e, vado a distribuire, anche un pochino di mozzarella sotto, un cucino d'olio, sale, chiaramente, non lo metto, perché, comunque, il broccolo, era già, ripassato e salato, e vado in cottura, allora, qui, dicevamo, vi ho scritto tutto qua, calcolate anche, che tutti gli ingredienti, ora li troverete, nella info box, quindi, tutte le pesate, tutte le misure, tutto quanto, e, per quanto riguarda, il forno di casa, massima temperatura, che riuscite a ottenere, poggiate, la teglia, sulla base del forno, per 10 minuti, e poi, la riportate, un po' in alto, per far, diciamo, dorare, il sopra, grazie. grazie a tutti, Grazie a tutti